Ringrazio la nomina di Renzo Ributto del Fogolar Furlan di Toronto e anch'io ho deciso di partecipare all'Ice Bucket Challenge per sostenere quella che è la ricerca contro l'Asla e oltre ovviamente a questo gesto che abbiamo visto tante volte sul web, anch'io contribuirò per cercare quella che è una soluzione a questa malattia purtroppo ancora incurabile. A fianco a me c'è Fernando Siani che mi sostiene. Allora io accetto la nomina di Gabriele Schiavi, gli dico anche che se domani non verrò a lavorare il motivo lo sa perché se mi becco un malanno per questa qua fredda è colpa sua, comunque è per una giusta causa, lottiamo contro l'Asla, ovviamente dopo questo gesto faremo la nostra donazione. Io nomino, parto io con le nomination, nomino ovviamente Maurizio Ferrari e Stefano Giovampietro, i miei colleghi di Udinese Channel e poi nomino il capitano della cavese Claudio De Rosa. Io invece nomino una mia collega, grandissima amica Monica Bertini, giornalista di Sky, poi nomino Ivan Zazzaroni e Andrea Carnevale dell'Udinese. Spero ovviamente accetteranno anche loro queste nomine. Sicuramente sì. Noi da grande squadra, Fernando, quella di Udinese Channel, la facciamo insieme. Va bene. Io. Tre. Due. Uno. Madonna.